Ciao, sono Valeria Gherardini, AICS, Associazione Italiana Cultura Sport. AICS è un ente di promozione sportiva, è anche un'associazione di promozione sociale. Siamo capillarmente distribuiti su tutto il territorio italiano con associazioni e società sportive che promuovono lo sport come strumento di coesione sociale e di promozione della salute. Il nostro contributo ai lavori di questo tavolo è stato relativo alla costruzione dei capitoli, del reclutamento e della segnalazione. Abbiamo lavorato a questo processo partecipativo insieme ad altre 25 associazioni e organizzazioni. Ai ragazzi e le ragazze che si affacciano al mondo dello sport, noi diciamo diritti, responsabilità e fiducia. Ai dirigenti, tecnici, volontari e famiglie del mondo dello sport, le nostre tre parole sono responsabilità, formazione e unità. Battiamo il silenzio perché uniti si vince. Battiamo il silenzio!